Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Gianni Sperti, noto opinionista di Uomini e Donne, ha rivelato in una recente intervista a Verissimo di aver affrontato una grave depressione solo qualche anno fa. Il ballerino, ora famoso per i suoi giudizi nel dating show condotto da Maria De Filippi, ha confessato di aver vissuto momenti di profonda tristezza che lo portavano a piangere costantemente, nascondendo il suo malessere a tutti, compresi i colleghi del programma. Sperti ha spiegato di aver affrontato il suo dolore attraverso la psicanalisi, riuscendo a superare la situazione e a migliorare la sua condizione emotiva. Ha raccontato di aver subito forti delusioni nella vita, che lo hanno portato a chiudersi e a non fidarsi delle persone, fino a essere vittima di un tradimento da parte di presunte amicizie che lo hanno truffato, facendogli perdere tutto. L'opinionista ha sottolineato l'importanza di prendersi cura delle proprie questioni personali e di non delegare troppo, consigliando a tutti di essere attenti e vigili. Ha ammesso di aver imparato dalla sua esperienza e di gestire ora in prima persona tutti i suoi affari, cercando di non cadere più vittima di inganni e tradimenti. Gianni Sperti ha deciso di raccontare la sua storia per sensibilizzare e aiutare chi si trova in situazioni simili, dimostrando coraggio nel parlare di momenti difficili e dolorosi vissuti nel passato. La sua testimonianza è un monito a non abbassare la guardia e a non fidarsi troppo delle apparenze, mostrando che anche dietro un sorriso televisivo...